Se siete stanchi della solita capresa dovete provare questa mozzarella ripiena, è facile da fare ed è gustosissima. Tagliate a piccoli pezzi i pomodorini. Lo stesso anche le olive. Eliminate l'olio dal tonno e versatelo in una ciotola. Aggiungete poi i pomodorini e le olive tritate. Aggiungete poi il mais e un goccio d'olio. Mescolate in modo da amalgamare bene tutti gli ingredienti. Tagliate una fetta di mozzarella che sarebbe poi il coperchio. Con uno scavino o un cucchiaino scavate la mozzarella. Riempitela poi con il ripieno di tonno e pomodorini. Aggiungete un filo d'olio extravergine. Io ho aggiunto abbondante pepe e in alternativa potete aggiungere un pizzico di peperoncino. Chiudete la mozzarella con la calotta che avete tagliato e poi condite come più vi piace, anche con glassa di aceto balsamico. È facilissima da fare, ricca di gusto, perfetta in queste calde giornate d'estate. Se l'ho fatto io, lo puoi fare anche tu. Grazie a tutti.